Presidente Roberto Di Riu, oggi si è riunito il tavolo provinciale per analizzare i dati sui progetti di filiera locale di Tossilo e per vedere quali siano le prospettive per il bando che riguarderà le aree di crisi del Nurese. Cosa si può dire? Che bilancio si può trarre? Il bilancio è disastroso perché i soldi sono stati spesi solo nella misura del 10% su Tossilo e noi temiamo che anche sulle altre aree industriali, quindi Siniscola, Prato Sardo e la Sardegna Centrale, ci sia lo stesso problema. È un problema di gestione centralizzata da parte della Regione che non riesce a disporre di un apparato tecnico sufficientemente rapido per consentire alle aziende di accedere a questi finanziamenti. D'altro canto c'è anche la difficoltà al credito per il cofinanziamento che le stesse aziende devono dare e le regole dentro questi bandi che impediscono un accesso facilitato a queste risorse. Per cui noi mettiamo grandi stanziamenti a disposizione delle imprese per fare lavoro, per fare nuova impresa o per rafforzare le imprese esistenti e poi il risultato dopo tanti mesi è assolutamente insufficiente. Questo è un gravissimo problema che noi vorremmo scongiurare. Abbiamo chiesto al Presidente della Regione di incontrarci, ancora non ha dato nessuna risposta. È un problema che il territorio sta vivendo con la vigilanza e l'attenzione che è necessaria. È indispensabile adesso spendere i soldi europei e i soldi europei che non spendiamo sono questi. Quindi massima attenzione da parte di tutti e mobilitazione per riuscire ad arrivare a uno strumento efficace.